Musica Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Sgominata dalla Polizia di Stato, questa mattina un'organizzazione criminale composta da italiani responsabili di numerosi furti in case e auto nelle province di Verona, Raggio Emilia, Mantua, Brescia, Modena e Ferrara. La mole degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini, tra cui filmati registrati nelle abitazioni di proprietà della banda, i dati dei movimenti delle auto, nonché intercettazioni telefoniche e tabulati, hanno consentito di accertare per il momento una quarantina di casi compiuti nelle tre regioni, delineando la presenza di un vero e proprio sodalizio criminale, avente come base logistica la città di Verona. Il blitz della squadra mobile di Verona è scattato le prime ore di questa mattina con il supporto del reparto prevenzione crimine del Veneto e delle squadre mobili di Milano, Venezia, Treviso e Udine. Già dalle prime ore della mattinata di oggi sono stati eseguiti numerosi arresti. A Mirataglio, in provincia di Venezia, sulla riviera del Brenta, nella notte un cittadino cinese si è trovato a tu per tu con degli sconosciuti dentro casa dei ladri. L'uomo si è difeso, pare, con un coltello con il quale ha ferito i ladri, ma è rimasto anche a sua volta ferito. In suo soccorso è arrivato un vicino e sono state allertate le forze dell'ordine. Sono in corso le ricerche dei malviventi. Novità sul caso di Isabella Noventa. Ora il compagno di Deborah, una delle arrestate in questa terribile vicenda, risulta indagato. Allora sentiamo gli ultimi sviluppi. Gli investigatori continuano le indagini sul delitto e la scomparsa di Isabella Noventa, la donna di 55 anni di Albignasigo, scomparsa nel nulla ormai da mesi. Con l'accusa di omicidio premeditato in carcere si trovano i fratelli Sorgato e Manuela Cacco, l'unica quest'ultima che avrebbe fatto delle rivelazioni. La donna ha raccontato che Isabella sarebbe stata uccisa da Deborah. Secondo le ultime notizie, il convivente di Deborah, sotto ufficiale dei carabinieri, sarebbe indagato dalla magistratura di Padova. L'uomo, un maresciallo, secondo l'ipotesi di accusa del PM Giorgio Falcone, avrebbe violato il segreto d'ufficio e si sarebbe collegato abusivamente alla banca dati delle forze di polizia. Negli ultimi giorni l'ufficio dell'uomo è stato oggetto di una perquisizione e sono stati raccolti i vari elementi, ora a disposizione degli inquirenti. Ma che ruolo ha avuto nella tragedia? E quanto sapeva di questa orribile vicenda? Al momento si è sempre dichiarato estraneo ai fatti e non sarebbe stato a conoscenza di ciò che Deborah Sorgato avrebbe fatto. Quello che è certo al momento è solo che l'uomo ha ritrovato in casa degli scatoloni con due pistole relativi ai proiettili e 124 mila euro in contanti e al momento della scoperta ha chiamato immediatamente i colleghi che hanno allertato la questura. Insomma una vicenda che appare ancora a volta di giallo e di mistero, quello che si sa è che nessuno parla raccontando la verità in grado di restituire il corpo della povera Isabella. Domenica 1 maggio l'onorevole Roberto Caon è stato colto improvvisamente da un arresto cardiaco e attualmente si trova ricoverato all'ospedale di Padova. I medici sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni cliniche. Sono ore ovviamente di grande apprensione. Vi terremo aggiornati sull'evolversi delle sue condizioni di salute e gli esprimiamo vicinanza sperando che possa riprendersi presto. Torniamo in primo piano con la giovane che responsabile di un omicidio nella metro di Roma in regime di semilibertà a Venezia dove era detenuta aveva postato delle foto sui social. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia si è riservato di decidere sulla richiesta di revoca della sospensione della semilibertà per Doina Mattei, la donna rumena che nel 2007 uccise con un'ombrellata in un occhio Vanessa Russo durante un litigio alla fermata della metro a Roma. Nel corso dell'udienza nella giornata di martedì il PG a nome dell'accusa ha dato suo nulla osta alla revoca della sospensione decisa dopo che Mattei, detenuta nel carcere femminile della Giudecca a Venezia, aveva aperto e postato delle sue foto su un social network mentre era al mare durante le ore diurne di uscita dal carcere per recarsi a lavorare in una pizzeria come cameriera. La donna è difesa dall'avvocato Nino Marazzita. Traffico intenso come previsto nei giorni scorsi da autovie questa mattina, in particolare sulla 4 con direzione Venezia a seguito della ripresa della circolazione dei mezzi pesanti fermi ieri tutto il giorno in Slovenia. Con l'aumento dei flussi veicolari si sono anche verificati due incidenti nell'arco di mezz'ora con gravi disagi lungo tutto il traffico. Alle 7.10 il primo incidente tra Cessalto e Sandonà con direzione Venezia, uno scontro tra due mezzi pesanti. Alle 7.50 il secondo incidente tra Sanstino e Cessalto sempre con direzione Venezia, questa volta uno scontro tra un tir, un furgone e una macchina. Alle 8.20 l'autostrada è stata chiusa nel tratto Portogruaro Cessalto. Alle 9.30 la coda in prossimità dello svincolo di La Tisana aveva raggiunto i 7 chilometri di lunghezza. Alle 9.50 i mezzi sono stati recuperati e il tratto è stato riaperto. Ovviamente lo smaltimento è stato poi abbastanza lento. Qualche giorno fa a Padova un tassista è stato rapinato da un uomo che gli ha puntato un coltello alla gola. In pochi giorni la polizia della questura di Padova ha risolto il caso. Rapinatore è in carcere. Era salito a bordo di un taxi in zona stanga e poco dopo aveva puntato un coltello alla gola del conducente rapinandolo dell'incasso della serata. Il tassista prontamente aveva premuto il pulsante antirapina, un dispositivo di sicurezza presente nelle vetture. In breve sul posto si erano portate le volanti della polizia che hanno raccolto tutti gli elementi possibili. Le indagini portate avanti dalla mobile hanno portato in pochi giorni a identificare il rapinatore. Si tratta di un italiano di 36 anni. Nei suoi confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare ed è stato portato in carcere. Una giovane inglese di 21 anni ha cercato di pagare un bracciale d'oro del valore di circa 12 mila euro in un negozio Cartier con delle carte di credito risultate false. La donna è stata arrestata dagli agenti delle volanti. Era in compagnia di un'altra giovane, anche lei inglese. Al momento del pagamento del gioiello aveva presentato tre carte di pagamento diverse, senza che il pagamento però andasse a buon fine. Insospettito il personale del negozio ha chiesto l'intervento della polizia. La giovane è stata accompagnata in questura ed è risultata in possesso di altre sei carte di credito, di cui cinque false, nonché di un foglio manoscritto sul quale erano annotati i numeri delle carte di pagamento possedute e un elenco dei negozi del centro di Venezia dove forse voleva fare acquisti. La ragazza è in attesa di comparire davanti al giudice. Adesso la rubrica dedicata al fisco in 60 secondi con l'esperto tributarista Alberto De Franceschi. Buonasera, ma alla fine sulla prima casa paghiamo le tasse? È una delle domande che mi vengono poste sempre più spesso in studio. La legge di stabilità 2016 ha portato una rivoluzione sul fronte della tassa sulla casa e quindi sia l'Imu che la Tasi sulla prima casa non deve essere più pagata, così come previsto dal decreto Salvitalia. Non si paga nemmeno l'Imu agricola e quella sui macchinari imbullonati. Per prima casa si intende l'immobile dove il proprietario e la sua famiglia vivono abitualmente e vi risiedono anagraficamente. Ma attenzione, se i familiari risiedono in case diverse ma nello stesso comune, soltanto una delle due case avrà l'esenzione. Se invece le case sono in comuni diversi, spetta a entrambe l'esenzione. La casa deve essere iscritta come un'unica unità immobiliare. Anche le pertinenze della casa principale come il box-auto, le tettoie, i magazzini locali di sgombro e le cantine sono esenti. Non sono esenti invece le case di lusso, cioè le case signorili, le ville e i castelli che continueranno comunque a pagare sia l'Imu che la Tasi, ma con un'aliquota agevolata 4 per 1000 e una detrazione di 200 euro. Rimane comunque da pagare la Tari, che è la tassa sui rifiuti urbani, che è una delle tre imposte e tasse con Imu e Tasi che formano la nuova imposta locale unica chiamata IUC. Buonasera. Grazie ad Alberto De Franceschi. Vi ricordo tutti i giorni la rubrica dedicata al fisco in 60 secondi e il mercoledì sera dopo il Tg l'approfondimento. Ora uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso tra il pomeriggio e la sera, tratti parzialmente nuvolosi o nuvoloso. È tutto per questa edizione. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.